Ciao, io sono Antonio e oggi sono qui per pallarvi a grandissima richiesta dell'album di figurine di Animali Fantastici i Crimini di Grindelwald. Eccolo qui tra le mie mani, ragazzi, lo trovate già in tutte le edicole disponibile ed è una figata pazzesca perché quest'album è totalmente rivoluzionato rispetto a quello del primo film di Animali Fantastici. Come potete già vedere con i vostri occhi, il formato è stranissimo, nuovissimo, mai visto prima perché è un album formato quotidiano. Anche il tipo di carta è molto molto simile a quella utilizzata per i giornali che trovate in tutte le edicole. E quest'idea mi piace davvero tantissimo, anche l'odore, ragazzi, è esattamente quello di un giornale appena stampato. Questa raccolta di figurine è naturalmente divisa anche questa volta tra Animali Fantastici i Crimini di Grindelwald e Harry Potter. Quindi anche questa volta troviamo una parte dedicata alla saga originale che non ci dispiace mai. Io la trovo una cosa molto carina per comunque ricollegare tutta la storia, anche tutti i vari riferimenti che piano piano troveremo in questo film ma anche in quelli futuri. Ragazzi, già sul retro è riportata in modo molto semplice tutta la procedura necessaria per richiedere le ultime figurine mancanti. Quindi qualora voi magari acquistaste un box, se vi mancheranno 10-20 figurine alla fine dell'album potete tranquillamente richiederle tramite il sito. Credo che il limite sia quello di 40 figurine mancanti. Bellissimo anche l'artwork utilizzato qui dietro che è lo stesso che vi ho mostrato nel volume dedicato ad Hogwarts di Panini Comics che vi ho recensito la settimana scorsa. Quindi molto molto bello anche averlo utilizzato qui sul retro. L'album è diviso in quattro parti principali che troviamo qui in una sorta di indice. Da pagina 3 a pagina 5 è dedicato a Animali Fantastici e Dove Trovarli, quindi c'è anche una piccola parte dedicata al primo film. Da pagina 6 a pagina 13 invece ci spostiamo ai crimini di Grindelwald, quindi tutte le nuove creature, la nuova trama e i nuovi personaggi. Da 14 a 15 invece solamente le creature in generale e poi da 16 a 23 troviamo la parte dedicata alla saga originale, quindi a Harry Potter. C'è tantissimo testo all'interno delle pagine, quindi c'è anche tanto da dire. Ogni figurina ha praticamente una sua didascalia. E quindi una volta attaccate le mie figurine credo proprio che comincerò a leggere tutto per vedere magari se c'è qualche piccola chicca o qualcosa che non so. Però mi piace davvero tanto, sembra davvero un giornale, ci sono tutti i titoli, è davvero molto molto bello. Sono contento di questo rinnovamento delle raccolte a figurine perché ragazzi i soliti album sì sono belli, però c'era bisogno di una ventata di freschezza. E devo dire che con quest'album così ci sono riusciti, è stato davvero un colpo di genio. C'è anche una zona dedicata al Circus Arcanus, quindi davvero molto completo. Sono contento, ma ragazzi bando alle ciance perché non sono qui solamente per mostrarvi l'album vuoto, ma siamo qui assieme per aprire una confezione intera di figurine. Ebbene sì, ho un intero box che contiene 50 bustine e in queste bustine stavolta potremo anche trovare delle figurine lenticolari. Quindi una cosa molto molto particolare, una novità assoluta per questo tipo di raccolta è potremmo trovare delle figurine lenticolari di animali fantastici. Quindi sono molto molto contento e spero di trovarne qualcuna, anche perché io spero di completare anche l'album con un box intero, ma qualora me ne mancasse qualcuna utilizzerò sicuramente il servizio di figurine mancanti. Ma detto questo, ragazzi bisturi alla mano e andiamo ad aprire il nostro box che potrete tranquillamente acquistare in edicola o sul sito di Panini. Ecco qui, andiamo a tirare fuori tutte le figurine, ok non sono riuscito ad aprirle a primo colpo, ok adesso sì, e andiamo a tirarle fuori dalla scatola. Eccole qui ragazzi, sono davvero tantissime, sono un sacco di bustine, non vedo l'ora di aprirle tutte assieme a voi, mi sento come un bambino sotto l'albero di Natale il 25 dicembre, quindi ragazzi adesso ne aprirò qualcuna assieme a voi e poi vi mostrerò tutte quelle più belle che avrò trovato all'interno dei 50 pacchetti, perché aprirli tutti uno per uno davanti alla telecamera, se cominciamo adesso magari finiamo domani mattina questo video. Quindi direi di aprire tutti e 50 pacchetti. Uh, ho già trovato la prima card lenticolare, sono abbastanza sicuro. Questi animali fantastici, ok, poi le guardiamo assieme ed ecco qui la prima card lenticolare, quella con Ron che insegue una pluffa. Davvero molto molto bella, però adesso continuiamo con le altre e poi le guardiamo alla fine. Bene, eccoci qua, fase 1 terminata, adesso possiamo passare alla fase 2 che è quella della verifica delle figurine del conteggio. Io le ho già suddivise, ho eliminato tutti i doppi in fase di apertura e i doppi dovrebbero essere solamente questi. Tenete conto che una confezione, un box di figurine contiene 50 bustine per il costo di 80 centesimi a bustina, e ognuna ne contiene 5 di figurine, quindi abbiamo 250 figurine totali. Io ho trovato una trentina di doppi, quindi dovrei avere a disposizione oltre 200 figurine. Io probabilmente l'avrò contato male, l'ho fatto velocemente, ma ad occhio e croce dovrei aver finito l'album quasi del tutto e non per quanto riguarda invece quelle lenticolari. Ne ho trovate 5, ho trovato quella lì con il Kelpi, poi ho trovato quella con Newt, Tina e Lita, poi ho trovato anche quella di Occami, quella di Voldemort e come che avevo già detto quella di Ron con la pluffa. Quindi 5 figurine lenticolari su 50 bustine, ma devo dire che è abbastanza semplice trovarle toccando le bustine perché sono quelle più rigide rispetto alle altre che sono molto più morbide se provate un po' a piegarle tra le mani. Ma detto questo, piccolo consiglio per tutti voi fan accaniti della saga e collezionisti, invece posso dirvi che su 50 bustine ho trovato solamente una figurina doppia tra quelle lì che invece brillano. Quindi tra queste qui, che possiamo dire foil, possiamo definire così, ne ho trovata solamente una. Quindi 49 tutte diverse, solo una doppia. Io adesso non so esattamente se 49 è il numero totale di quelle presenti nell'album, ma adesso piano piano comincerò ad attaccarle e poi vedremo alla fine se con un intero box si riesce più o meno a completare l'album, ad eccezione, come vi dicevo, di quelle lenticolari che in ogni caso credo si potranno tranquillamente ordinare tramite il servizio del sito per pochi euro. Quindi ragazzi, adesso vado ad attaccare queste figurine e poi traiamo le nostre conclusioni finali. Bene, eccomi di nuovo qui, è passata poco più di un'oretta da quando ho cominciato ad attaccare le mie figurine e finalmente ho finito. L'album è decisamente molto più pesante e ragazzi, l'ho quasi completato del tutto. Mi mancano solamente 14 figurine, quindi con un box intero si riesce quasi a completare l'opera. Sono quasi tutte quelle lenticolari, quelle mancanti, ne ho solo 5 e praticamente il 90% di quelle che mi mancano sono quelle. Io credo proprio che uscirò del servizio di figurine mancanti di panini per non comprare ancora altri pacchetti e quindi finirò così il mio album. Naturalmente ho un po' di doppi da parte, quindi qualora vi servisse qualche figurina, fatemi sapere in privato e sarò contento di mandarvele in caso. Ragazzi, mi piace tantissimo questo nuovo album di figurine di animali fantastici, me l'avete consigliato in tanti, volevate vederlo e ve l'ho portato. Sono davvero molto molto belle le card lenticolari che si attaccano sempre sull'album e molto belle anche le figurine, quelle lì foil. Davvero molto belle, molto ben stampate, la qualità del dettaglio è molto molto alta, ma ben si sa, le figurine panini sono leader nel settore, quindi c'è davvero ben poco da dire. E a questo punto ragazzi, mi sa che non ci resta che aspettare l'uscita della prossima pellicola di Animali Fantastici, chissà come si intitolerà, sono già super curioso, non vedo l'ora di scoprire come evolveranno le avventure di Newt, Jacob, Tina e Queen e di tutti gli altri personaggi di Animali Fantastici. E nell'attesa io non posso che consigliarvi di scrivere nei commenti cosa ne pensate di quest'album, se l'avete acquistato, e approfittate dei commenti di questo video anche per scambiare le figurine doppie che avete trovato. Credo che ne uscirò anch'io, visto che ho un bel po' di doppi, e naturalmente non vedo anche l'ora di vedere cosa si inventerà Panini per il terzo album di figurine di Animali Fantastici. Bene, detto questo ragazzi, io non devo dirvi altro che lasciare un mi piace, commentare qualora il video vi fosse piaciuto, e mi raccomando, iscrivetevi al canale e seguitemi anche su Instagram. Adesso do un taglio alle ciance e noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità. Ciao!